Stasera prenderà il via la manifestazione Io Apro che vedrà tanti ristoratori aprire i loro locali in tutta Italia. Pesaro sembra aderiscano in pochi o quasi nessuno. Lei però ha deciso di aprire simbolicamente il suo locale sabato e domenica senza far entrare nessuno. Esatto, chiaramente siamo sensibilissimi a questa manifestazione di carattere nazionale che ci coinvolge a tutta la categoria e che condividiamo perché comunque rappresenta un grosso malessere che dopo quasi un anno è arrivato a un punto che ha bisogno e necessita soluzioni e necessita risposte. Allo stesso tempo però non vogliamo andare contro la legge e vogliamo anche tutelare i nostri clienti quindi abbiamo deciso di seguire una linea che potrebbe essere moderata in questo momento. Quindi non vogliamo dire no, non partecipiamo ma allo stesso tempo non vogliamo fare niente di esagerato e quindi abbiamo deciso di tenere una linea più morbida. Apriremo il nostro ristorante simbolicamente per tutto il weekend fino alle 10, staremo qui e le luci saranno accese ma non prenderemo clienti, non prenderemo prenotazioni, a chi ci chiama lo spieghiamo quindi abbiamo anche modo di avere un confronto e cercheremo insomma di esserci un po' più simbolicamente. Quindi ci siamo, siamo sensibili, non ci voltiamo ma allo stesso tempo rispettiamo la legge. Perché? Perché tutto questo deve portare comunque a un confronto, deve portare a un'apertura di dialogo. Se questo non fosse, se il governo ignorasse ancora tutto quello che sta accadendo saremo pronti anche noi per necessità a impugnare una presa di posizione più forte nelle prossime giorni, nelle prossime settimane. Grazie.